Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Roberto Di Giacomo, sulla FPLI coda per viabilità esterna che non riceve allo svincolo di Lastra Stigna per chi proviene da Firenze e rallentamenti per lavori tra Lastra Stigna e Ginestra Fiorentina verso Livorno, chiusa l'entrata di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno, per lavori e chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Segnaliamo che il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi i percorsi alternativi sulla provinciale 12 o sull'autostrada 11. Per quanto riguarda la viabilità cittadina in via Valfonda la strada sarà chiusa per lavori da lunedì 7 a mercoledì 8 ottobre in orario notturno dalle 1 alle 4. Molsi in Toscana Info, servizi in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitane e comuni di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!